Vi siete mai chiesti da dove veniamo, dove stiamo andando? E' giunto il momento della grande rivelazione, otto pianeti, otto sovrani, otto lens, le lens posseggono un potere immenso, il DNA, la memoria dell'esistenza. Il nucleo della vita. E' ora che i Lord si riuniscano per prepararsi al nuovo allineamento. Le galassie si sposteranno per procedere verso una nuova era. Questa è la storia vera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.